Lui è quello la che fa pesce Aspetta, quella che fa... Ma è uno youtuber? Ma non era quella che è andata a Masterchef e ha detto ti squaglio la guaglia? Ciao ragazzi sono i corni Oggi c'è Andrea e quindi? Sei challenger Perché ci avete chiesto? Provate a indovinare gli youtuber Ora mi auguro che siano italiani, sono italiani Penso di sì, no Perché ho stranieri ragazzi, non è che ho tutta questa grande conoscenza No, credo che siano tutti italiani, almeno Già, già, già Pochi ne conosco italiani, no, vabbè dai, sono tutti amici nostri Quindi la maggior parte li conosciamo Ma saremo così bravi da indovinarli Soprattutto con l'emoji che è difficilissimo Con l'emoji Non è con l'emoji? No Sì Sì Non lo so, non c'è scritto Non lo so, io penso che sia con l'emoji ragazzi Già mi sono fatto tipo dei flip mentali Mi raccomando Non lo so Se ancora non fare parte del team Dolci Unicorni Cosa dovete fare? Dovete essere iscritti al canale, lasciare un like a questo video E soprattutto lasciare tanti commenti giù Provate ad indovinare anche voi e fateci sapere le risposte Mi raccomando non barate perché le vado a leggere tutte Allora il video si chiama Indovina lo youtuber in tre secondi Ragazzi, tre secondi già vi dico no Perché diventerebbe un video freneticissimo Esatto Noi stopperemo ogni volta che compaiono le cose E proveremo a indovinare uno a testa Chi inizia? Chi inizia? Testo croce Croce Alexa lancia una moneta Testa Io Perfetto Che cosa vorrebbe iniziare? Iniziamo? Vai Io direi di iniziare subito Allora togliamo il volume Sì perché sono qua Via Indovina lo vedo per in tre secondi Vai Lui è quello la che fa pesce Aspetta Quella che fa Ma è uno youtuber? Ma non era quella che andata a Masterchef E ha detto ti squaglio la guaglia No Ti apro la guaglia No Ti sfiletto la guaglia Ma è lui E chi è? Ma io l'ho capito Però non mi ricordo il nome Ah aspetta Non ci vedo ragazzi Aspettate È stepney Eh in teoria sì Mi giuro Allora aspetta un attimo Sfiletto la guaglia Allora ragazzi Non l'ho visto bene Perché ancora siamo di primo mattino Io ancora gli occhi non ce l'ho proprio puliti puliti Avevo visto quello che diceva a Masterchef Della mia terra I sapori della mia terra I sapori della mia terra Il sfiletto la guaglia Per me era quello Secondo te Ora vedendo il video È fattibile in tre secondi? Non lo so Vediamo il tuo e vediamo E poi ragioniamo Vai Chi è? Vabbè qua anche se stop Non lo so Eh Zano Te lo volevo dire io Ah McShowsha Dai è fattibile allora Il bolla Ma la polla Ma tutti quanti Non lo so Chi è? H-Math Ah Gab Noo Gab Eh eh Ah se lo metti qua Eh non viene l'altro L'altro di stai Dei 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 Mates Ah aspetta Surri Surri Eh dai Ti ho avuto il buono Anche se il tempo era scaduto Però si è scovazza Ma perché tutti quelli Ma quelli difficili tutti a me Scusa Blur Ma no no Ci siamo anche stati con Blur Ma questa foto non la riconoscevo Cioè non Troppo giovani in quella foto Blur Dai Ah Eh Sascha Anima Sascha Vabbè Ryan Vabbè è sempre lui Eh vabbè è facile È Lion 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 Big Lion One point Questo? Marco Marzano Marco Dove è riuscito Marco? No Eh aspetta lo so Ha messo la panna Nella canna Dai non mi ricordi il nome Lo so chi è Aspetta Pensa alla canzone che poi fa Murri Murri Eh dai lo sapevo Dai segneteli punti Punto X Murri E questo? Biacca matta Io per me lo sparo con te Chi sono? Dude Perfect Dai che facile Ehm Ehm Non mi ricordo Il vostro caro Dexter Hai perso Dai Lo sapevo Lo sapevo Ma non mi veniva Eh papà Eh papà Vedas Si chiama Ma chi è? Power No Senti La qui chiudiamo Magari No Ah c'è Eh si l'altro Sempre nei mezzi Comunque ragazzi Ma questo è quello che ha fatto Uncharted Come si chiama? Si Tom Holland In siciliano Ci piacissi Parola del giorno Significa Ti piacerebbe Tom Holland Ma quanto mai un klaus Ehm Ah aspetta Ehm Jumpy Tech Sembrava Xyuder Ma Jumpy Jumpy Tech Punto Non so chi sia Lo so ma non mi ricordo Ah Guarda Ehm Già chi dà Ehm Ehm Sofì e lui Ma è contro te Eh che facile però Dai Ehm Se mai riuscisse Eh oh 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 Eh lui sale Lui sale Lui sale Brava Chi è? Guarda i Black Abyss Guy Chenat Dai ma ragazzi Alcuni non li conosco Ma questi non sono italiani No raga Non sappiamo Eh eh Più dei Pi Ah lo campollo Volevo dire Joker Joker Però chi toccava E che tu devi mettere pause Secondo me Eh va parlando questo Anche se metto Ma non lo conosco Scusa Ah ma sono Ma sono stranieri Da Markiplier Chi è? Dai tocca a te Prossimo Attenzione Questo qua mi sembra No Sembrava Andrea Cervone Ma non Allora Mi davo la rete di Andrea Cervone Ma sarà Ragazzi per me Sarà uno straniero Sarà sembra americano No Gabby Chi è Gabby? Non lo so Ma chi è? No Ma non lo so Mio zio Mark Robert Boo Joseph The Gamer Giuseppe Sto chiedendo Jenny Jenny Joseph The Gamer Eh aspetta È lui Entra Lo vedo anche In palestra No non è lui Si lo vedo in palestra Qua si raffusa È la tv Ah Vai Danny Lazarin Ma l'ho anche conosciuto Simpatico Come persona Punto per me Ah attenzione Aspetta Suizia Però non somiglia Alla tiktoker Ma è anche youtuber Ma chi è delle mille Ma non è quella Delle faccine Che è diventata famosa Con le faccine Ma che dici Ma chi è Bella Porce Ma non è lei No No Ragazzi la faccia è totalmente diversa Ma se è lei Ma che dici Vai Ma Bella Porce Non è Bella Porce Infatti Ma è uguale Ma che sei diceva Ma è la sorella Ma che dici Vai E chi è Paolo di Luca e Paolo Porta Ma Eh questo è Justin Bieber Ragazzi ma Questo è sicuramente Riso di Luca and Paul Ah ninja Ninja di Fortnite Lui famosissimo ninja Famosissimo per Fortnite Dai Niente Tocca a te Un cantante Gli ho dato No no Ah pensavo fossero tutti italiani Però dai Eh Ormai li stiamo indovinando Io lui Questo è il mio Ma sembra di quello di Bigio Bigio L'altro Quello Gigio Non so chi sia Bigio Quello dei soliti idioti No È lui No Fa Fazerrug Ma non È uno che è andato in bagno Sembra 89 Lui è sicuramente Brumotti Oh 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 I pamper No No non so Io li confondo sempre con i pamper Ah i pantellas Ah i pantellas Giusto 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 Per sicurezza non lo segno Vabbè dai Facile dai Sembrava un attimo un'americana E invece no E invece no La Sabri Gamer La Sabri Gamer Poi Tocca a te Beh si 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 Owed 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 Scritta come? Owed Owed Ma Giro il filo Owed Chi è? Quello dei stash Ma che tisci A me sembra il tiktoker Dei decolors Sesto Sì si Lex è di Rosalba Beh Riccardo Dose Brava Non tu sei più brava Ken di Barbie Gianmarco Zagato Lo stavo dicendo io Ma se ne è il Ken di Barbie Sto scherzando Non lo sapevo Era per ridere Ah vabbè Lo so Sentite me lo metto Perché lo so Gianmarco Zagato Di Barbie morta Ci assomiglia però Eh Yotobi Sto dicendo youtuber Yotobi Pensavo Yodato Yodato Solo Yodato Yodato E questo? Aspetta Uno che è contento Di fare la cacca Perché è sempre la cacca? No questo non lo conosco Ah Stormi Stormi Ah sono quello magro magro Allora ragazzi Io non capisco Perché questo ragazzo Sia così magro Quello magro magro Sì sì ogni volta dico Maria ma non è troppo magro caruso ma mangia In effetti Aspetta Lo conosco pure io ma non so il nome Non mi ricordo No allora Niente Deposito le mie armi Si chiama deposito le mie armi? Dread Ci pensi si chiamava deposito le mie armi? Dread era Dread Vai tu Aspetta Questa la conosco Eh? Chi è? Rosanna Rosanna Tutta panna Rosanna Pancino Pancino E chi è? Una cosa del genere Vediamo se c'è Rosanna Pancino Io pancino È americana Però la conoscevo Non lo so No? Però se non è quella americana vale due punti Sì vabbè È più difficile Chi è Rosanna? Uno delle tartaruche ninja Tyler Tyler uno Boh Eh? Chi? Eh Mister Dread Dung Matt Smith No niente L'ultimo Eh dai Grande Aspetta Grande Eh Il masseo Bravo Il masseo Allora ragazzi Allora siamo arrivati a 50 I prossimi 50 nel prossimo video Alle prossime 50 telefonate Regaleremo il masseo Anzi vi regalo i miei contro te Così ve li portate a casa Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Die Undici Undici Io Attenzione Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci No vabbè Dieci veramente? Per un punto A un punto Avevi un vantaggio stratosferico Perché poi Stavo recuperando Ragazzi Hai vinto ma per poco Questa puntata di Indovina lo youtuber E voi A dieci Quanti ne avete indovinati voi E soprattutto Qual è il vostro youtuber Che C'è uno di questi youtuber Che avete visto Che ancora seguite O che seguivate Un tempo O in generale Qual è il vostro preferito Oltre noi Oh Va bene Ha detto questo Vi mandiamo un grandissimo bacio Vi vogliamo tanto 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 bene Noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Però difficili alcuni Io alcuni Ha rimasto la falla Faccio il masseo Che guarda così Molto arrabbiato